Quindi, semplicemente, per avere una coerenza nello strumento urbanistico, se tu fai una variante di pieno regolatore, la logica vorrebbe che ci sia anche la valutazione ambientale della variante stessa. Chiedo che ovviamente ci sia una riflessione, perché è un'interpretazione normativa, ma non un parere contrario. Grazie. Sottosegretaria Velo, prego. Per chiarire, confermo il parere contrario perché i due ordini del giorno, Agostinelli e Micillo, pongono questione in contrasto con la normativa europea da cui deriva la normativa nazionale sull'applicazione della base. Grazie. Micillo, parere contrario. Aperta la votazione. Marcon Pannarale Pannarale ancora non riesce a votare. Vediamo di qua. Piepoli, Sanga, Zanna Magorno è chiusa la votazione la Camera respinge 34, Terzoni accetta la riformulazione onorevole Terzoni? Sì Zolezzi accetta la riformulazione? Sì Alberti accetta la riformulazione? Sì Baroni accetta la riformulazione? Sì Basilio, parere contrario è aperta la votazione Placido, Stella Bianchi Peluffo Peluffo ancora non riesce? Sì ha votato Bechis ha votato è chiusa la votazione la Camera respinge De Rosa parere favorevole Battelli accetta la riformulazione? Sì Benedetti è favorevole Bernini Massimiliano accetta la riformulazione?